Sittaco, ci sono novità, novità importanti per quanto riguarda il tracciato ferroviario che transita proprio nel territorio comunale di San Giovanni Teatino. C'è stato anche un pronunciamento del Ministero. Sì, c'è una bella novità, quella che il Ministero appunto si è pronunciato in modo negativo a questo progetto e questo veramente per noi è una grande gioia, una grande risorsa per la città perché bloccando questo progetto o modificando questo progetto potrà o avere la realtà di oggi o addirittura migliorarla o non peggiorarla come purtroppo con il progetto precedente veniva danneggiato completamente tutte le città di San Giovanni Teatino ma in primis il centro cittadino. Quindi oggi si riapre una nuova fase e possiamo dire che è un buon Natale per noi tutti cittadini in primis perché possono veramente respirare un'aria nuova. Come Presidente del Comitato Non Ferrovia Sistra da Parco per noi è sicuramente una grande svolta. Il nostro Comitato ha costituitosi già da cinque anni, ha fatto numerose battaglie a tutti i livelli, a livello comunale ma soprattutto con la Regione perché questa ferrovia così come progettata, questo blocco di questa strada del centro di Corsitalia al centro del nostro comune e con questo sottopasso assolutamente assurdo perché significerebbe fare un buco al centro della città significa assolutamente dividere il comune di San Giovanni Teatino, San Buceto in due parti. Quindi siamo assolutamente soddisfatti e a fianco all'amministrazione comunale porteremo comunque avanti questa battaglia. La grossa novità di oggi è che il MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, ha accolto queste nostre osservazioni, ha dato un grande rilievo, una grande importanza invitando il tavolo tecnico che si sta occupando di questo raddoppio che come ricordo è un raddoppio che è inserito all'interno del raddoppio Pescara-Roma che oggi verrà realizzato tra Pescara e l'interporto di Manoppello, quindi ci siamo anche noi dentro. Il MITE ha ovviamente invitato questo tavolo a riaprire le procedure dando particolare attenzione alle osservazioni che provengono dal comune di San Giovanni Teatino e quindi di fatto noi ci ritroviamo sul tavolo del Ministero a poter riaprire, facendo valere le nostre ragioni in merito a quest'opera che noi riteniamo troppo impattante e che merita altri tipi di iniziative e di soluzioni.